Tempi duri per la scuola in Campania. Sempre più affollate le classi, aumentano gli alunni per docente, ma cresce la dispersione scolastica e il fenomeno del bullismo. Ieri in prefettura è stato tracciato il bilancio del sistema di istruzione campano nell'ambito del progetto DiscoBull, promosso dal Ministero dell'Interno con i fondi europei del PON Sicurezza per lo Sviluppo, progetto biennale che interviene sul bullismo e dispersione. Secondo i dati del Censis, la dispersione scolastica a Napoli raggiunge il 35% contro una media nazionale ferma al 26%, mentre a Caserta arriva al 28%, a Salerno al 24% e ad Avellino e Benevento scende al 15,2% e al 16,8%. La dispersione si concentra soprattutto nel primo anno delle superiori, quando quasi il 14% degli studenti campani abbandona gli studi. Attraverso il progetto DiscoBull sono stati allestiti tre centri d'ascolto, sostegno e recupero allo studio, rivolti a studenti, famiglie e docenti. Investire su questo obiettivo significa investire su una società migliore. Ancora l'altro anno, su 57 denunce di inadempienza scolastica, la Prefettura di Napoli è riuscita a recuperare 40 giovani e vite ad una frequenza ordinariamente assidua delle elezioni. Questo è quello che intendiamo perseguire anche con il progetto del quale oggi, grazie ai fondi PON Sicurezza, si è voluto dare la misura della sua prima fase. È un impegno al quale attendono non solo il Censis, ma anche la direzione scolastica regionale. Grazie a tutti.